Mister Cerbella contro il Bastia è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, un momento sicuramente non troppo positivo anche se ancora siamo ad inizio campionato. Sì, è arrivata la seconda sconfitta anche se dal punto di vista di gioco abbiamo fatto un'ottima prestazione. C'è il ramarico che per un episodio al novantesimo non siamo riusciti a portare punti in classifica, però il conforto dell'ottima prestazione, sottolineo ottima perché abbiamo fatto forse in questo anno e qualche mese di Serie D la più bella partita di queste quasi 40 partite. Perciò c'è da prendere di positivo il fatto che i ragazzi stanno comunque dando tutto sotto l'aspetto tecnico-tattico, dobbiamo migliorare sotto l'aspetto agonistico e lì dobbiamo fare un ulteriore balsettino che ci potrà permettere di fare punti tutte le domeniche. Anche perché Mister fra due giorni appuntamento importante, difficile e carico di fascino trasferta sul campo dell'Arezzo. Sì, è una di quelle partite che noi logicamente non ci aspettiamo tanto ma solo quello di andarci a divertire, fare una partita che magari con un pizzico di fortuna o con un pizzico di attenzione in più potremo ricordare per tanti anni. Per Tresti ma per andare a giocare ad Arezzo è comunque un ricordo indipendentemente di come andrà il risultato. Cercheremo di fare in modo che questo ricordo sia il più piacevole possibile. Le qualità migliori dell'Arezzo che tra le squadre costruite per vincere questo campionato? Le qualità migliori è che hanno dei ottimi giocatori, questo è fuori da ogni dubbio. Stanno forse stentando a trovare una quadratura adeguata, però sicuramente hanno dei giocatori che possono fare la differenza in qualunque momento. Come si ferma l'Arezzo? Come si può tornare dal comunale con un risultato utile? Come si può tornare? Questo non te lo so dire. Noi come proveremo ad andare a fermare Arezzo è sicuramente sotto l'aspetto del gioco. Anche l'anno scorso siamo andati lì e ce la siamo giocati a viso aperto. Non andremo sicuramente a fare una partita per portare via un punticino senza magari mettere mai piedi sulla loro metà campo. Anzi, noi andremo proprio a cercare di divertirci il più possibile. L'unico modo per divertirci, almeno a casa mia, è quello di cercare di andare a fare gol. Organico al completo? No, per questa domenica abbiamo qualche piccola defezione. Non so se mi riesce a recuperare Giannelli che era già assente la domenica scorsa e forse Cutrufelli.